Dal premio Strega a Vibo Valencia, capitale del libro 2021, ha fatto tappa a casa Berto Emanuele Trevi, vincitore del celebre riconoscimento nazionale, per parlare del suo rapporto con la terra di Calabria e del suo lavoro, anche attraverso il testo scritto appositamente per l'attrice Iaia Forte, dal titolo Mia nonna e i Borboni. Prima cominciamo a parlare un po' di Berto con Marco Mottolese, poi ci sarà un testo fatto da una grandissima attrice, talento comico di Iaia Forte, che ho scritto per lei, non è un testo mio che lei legge, è proprio una cosa pensata per Iaia, commissionata dal festival di Napoli, dei teatri di Napoli, che portiamo un po' in giro, questa è la seconda volta. Sono contento di ritornare perché spesso vengo qui in questo Palazzo Cagliardi, è un posto che mi è familiare, è legato a delle belle memorie, delle belle serate, già abbiamo fatto delle cose, quindi forse avendo questa prerogativa, noi scrittori ormai viaggiamo al seguito dei nostri libri buona parte dell'anno, ha un particolare significato per me ritrovare i posti, ritrovare le persone, creare quella familiarità che si crea nel tempo, quando vieni 5-6 volte. Io sono cresciuto qui, mia mamma è di San Nicola Arcella, che è un posto un po' più a nord, però sullo stesso mare, questo mondo tirrenico che mi ha ispirato molte cose che ho scritto, ho scritto un romanzo ambientato tra Rosarno e altri posti della Calabria, ho scritto questo spettacolo per Iaia, spesso ricorre nella mia immaginazione, certo meno frequentemente di Roma, perché Roma è proprio il posto che io ho imparato meglio a descrivere, però ci ho cavato fuori tante cose. Com'è stato vincere il premio strego? È un gioco, quindi è bello, perché prima sono 60, poi sono 12, poi sono 5, questo è proprio molto popolare in Italia, quindi uno si sente… ti deve piacere giocare, vuol dire che anche se perdi ci devi stare, una volta ho perso, una volta ho vinto, è un'esperienza positiva.